Riesce a intercettare questo passaggio, vuole anche tirare in un movimento solo dall'angolo. Ecco perché lo amano. Come fai a non amare Geprima Q? È impossibile. Ci sono giocatori che hanno un talento raro, cruciale per ogni coach, ma impossibile da allenare. Quello di creare un ambiente sereno nello spogliatoio e di trascinare compagni e tifosi con le proprie giocate. Fa parte di questa categoria ristretta JP Makura. E' un giocatore che ha dei grandissimi istinti per il gioco sia in attacco che in difesa. Ha sempre una grossa presenza emotiva. Ha grande qualità, grande tocco, capace di trovare delle soluzioni molto creative. Non è un accentratore, è un giocatore che non ha bisogno di toccare sempre la palla. È bravissimo a giocare senza palla. Probabilmente uno dei migliori giocatori del campionato a tagliare. Riesce a leggere gli spazi a volte senza neanche pensarci. Sta sempre nel punto giusto, nel momento giusto. È molto bello, è molto facile giocare con lui. È molto facile trovarlo sia in contropiede ma anche a difesa schierata. Un uomo squadra che rende imperdibili le partite di Tortona. Anche per un selezionatissimo pubblico d'oltreoceano. My parents watch mostly every game. I just, with my grandpa, I call him before every game and after every game and he doesn't see very well so he can't really watch but he can kind of hear the Italian which he doesn't really understand either but he's there in his spirit and he always calls me after and says, even if I did terribly, he said, oh you did great, I love you so much, blah 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 and it's just, it's just great to have that relationship with him. JP Makura è nato a Lakeville, negli Stati Uniti, 26 anni fa. Ha chiuso la regular season con statistiche davvero notevoli, in cui spiccano 13,5 punti di media con oltre il 60% da due. I numeri però spiegano solo in parte lo straordinario impatto emotivo e tattico della migliore rivelazione del campionato. Non ho mai stato un ragazzo che è così preoccupato con gli award individuali. Credo che è abbastanza bello di riconoscere per essere il giro che ero quest'anno. Un premio vinto anche grazie a canestri decisivi e acrobatici. Forse il vero marchio di fabbrica di JP. On this one I just figured I didn't have anything else and my best opportunity was to shoot it. I personally thought I was going to hit the side of the backboard but I'm glad I went in. Ah, first off my hair is way too long. This is an awesome play just because it kind of represents who I am. Make a shot and then get a steal 80 feet from the basket and just throw it up and make it. I think that's an awesome play. When I stole I thought it was going to go out of bounds but somehow it just stayed with me so I just threw it up. I tell my teammates especially Chris that I do get a few dunks a year that are pretty nice and he always says no way get out of here but I do. Sometimes I can throw one down. I know this one. Yeah, so Milan has some great defenders and big players and I thought my only chance was to turn the opposite way and shoot it because I thought he was going to block the shot and everything worked out perfectly. I mean I don't think I've ever taken a shot like that in my life so I'm glad I went in. I was going to block the run and over. You